eccoci buongiorno amici ho preparato un altro servizio che si può affiancare al sistema diciamo alla zona equacoin per aiutare le persone a trovare dove poter spendere questi soldi allora ovviamente io non sono dentro al gruppo di equacoin e l'ho fatto sul mio server quindi abbiamo due possibilità o scriviamo questo indirizzo qua quindi http 2 punti barra barra bit.ly barra barra equacoin directory che trovate qua oppure andate sul mio sito forse più facile da ricordare www america trattino welcome appunto com troverete qui equacoin directory ok quindi questo è un sistema per memorizzare tutti i business che utilizzano che accettano pagamenti in equacoin con i dollari o gli euro scritturali ok l'ho fatto ieri sera di corsa quindi magari non ho messo tutte le categorie di business quindi mandatemi tranquillamente un'email con le categorie che mancano e le posso aggiungere ovviamente ho messo la mia azienda america welcome con quello che fa e la mia radio con quello che fa per la pubblicità ad esempio e questo è un esempio quindi purtroppo è in inglese quindi però vi faccio il video così potete imparare a usarlo allora andremo qui allora qui serve find listing quindi per cercare un business mettendo un nome oppure potremmo vedere che ne so tutte le società che hanno a che fare con la pubblicità dovremmo forse io non ho messo come pubblicità bene andiamo molto bene ok consulenza vediamo consulenza imprenditoriale non c'è forse c'è qualcosa da sistemare comunque adesso intanto incominciamo a inserirli quindi andiamo su create listing creiamo il listing ecco qua ho scritto qualche cosa in italiano questo servizio è gratuito per i primi 1000 iscritti poi costerà un dollaro al mese anche perché insomma per ripagare un pochettino anche le spese che ci sono appena riesco preparo il video e lo sto facendo e qui c'è la mia email fabrizio punto ciancio chiocciola gmail punto com e poi se volete potete farmi una donazione ovviamente ok quindi qui si può scegliere la categoria mettiamo barche e finale banche e finanza e ne possiamo anche scegliere più di una che ne so io elettronica ok vedete è gratuito bene ci mettete il nome qua coin potete scrivere ovviamente una descrizione breve è una descrizione più lunga ok metterete il sito www e qua coin punto cash ad esempio il numero di telefono del vostro business il fax se volete la vostra email che non verrà pubblicizzata quindi adesso poi dopo vi faccio vedere e mettiamo i tag quindi qua quello che pensiamo che ne so auto non so se ci vuole la virgola lo spazio auto moto e non lo so viaggi tutte le parole che magari possono servire per rientracciarvi qua ovviamente potete scrivere il vostro indirizzo lo zip code che sarebbe il capo italiano che ne so 16 100 quello di genova voi mettete quello preciso poi potete caricare delle immagini quindi basterà selezionare un'immagine dal vostro mettiamo questo ad esempio dal vostro hard disk che sia ne potete mettere due se volete al massimo e poi qua dichiaro di accettare moneta scritturale del circuito eco coin punto cash mettete ok e schiacciate il pulsante a questo punto potete tornare qua in eco coin e adesso vedete che c'è il vostro business ovviamente poi adesso questo lo cancello quindi gli ultimi inseriti verranno messi in cima ok quindi bisogna mettere la virgola ok esatto tra i perché gli altri ah no quelli qua si bisogna mettere la virgola sui vari tag e poi ovviamente schiacciando viaggi qua verranno fuori tutti quelli che hanno a che fare con i viaggi qui c'è un problema del software perché non lo fa vedere veramente lo fa vedere ma lo fa vedere tutto attaccato qua non so va bene adesso poi controlleremo comunque l'importante è che qua si veda benissimo tutto tutto qua quindi qui c'è tutta la directory e qua si possono vedere tutti i contenuti benissimo veloce fatemi sapere che cosa ne pensate avete la mia email avete anche il mio numero di telefono che è questo qua con whatsapp quindi facile da rintracciarmi benissimo un abbraccio a tutti e ci vediamo mi piace proprio questo sistema equacoin.cash ecco Grazie.